Oh mio dio meno 6, meno 3, meno 1, meno 1, meno 3, meno 1, aiuto 100, no, 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 no raga no, no raga, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 raga 100.000 Oh mio dio 100.000 Grazie raga Grazie con tutto il cuore Maronna Si Si Sei arrivato a 100.000 iscritti Amico mio E questo è un traguardo Davvero davvero molto grande Davvero molto grande perché Le persone che veramente Fanno un qualcosa di bello Di sincero Vengono ripagate E tu sei stato ripagato Sei stato ripagato per tutto quello che hai fatto Sei stato ripagato Per tutto quello che farai E sei stato ripagato appunto Per tutto quello che fai tuttora Tu Per me sei stato Sei stato E sei tuttora Un vero amico Nei momenti Nei momenti brutti ci sei sempre stato Nei momenti in cui Ho avuto bisogno E non ho chiesto Tu hai sempre fatto quello che Probabilmente Potevo chiederti Ma non l'ho fatto mai Perché tu sai benissimo Che io Non chiedo mai niente Ma tu Sei riuscito ad aiutarmi Sei riuscito ad aiutarmi E ti ringrazio per tutto questo Ti ringrazio per tutte quelle volte Che Hai detto I tuoi iscritti Passati dalla live di Dark Ti ringrazio per tutte quelle volte Che mi hai aiutato Anche Per le Anche per le piccole cose Che per me alla fine Fatte da un amico Sono grandi cose Grandi cose Ti ringrazio per le donazioni Che non dovevi ovviamente Ti ringrazio davvero Di Proprio Di Di Cuore Proprio Spezzo il mio cuore Dal mio Petto E Ti scedo la metà Perché sei veramente Un amico eccezionale Sei una persona molto speciale Io ti dico solamente Di fregartene Di tutte quelle persone Che ti dicono Tu sei un disabile E quindi la gente ti segue per quello Fregatene di tutte le persone Che ti offendono E che ti offenderanno Vai sempre avanti Per quello che fai Perché te lo meriti Miki Non ti chiamerò Storto ma non troppo Ti chiamerò Miki Come ho sempre fatto Perché Io voglio bene A Miki Poi il personaggio Di Storto ma non troppo E un'altra cosa a parte Che sta su Youtube Che sta Dentro Una piattaforma Io voglio bene solo Ed esclusivamente a Miki Perché è una persona eccezionale Sei una persona Davvero speciale Io Ti ringrazio Tutto quello che hai fatto per me Ti auguro Davvero Di grande Proprio Cuore Immenso Il mondo Tutto Quello che ci possa essere Di arrivare ai 500 E ai 1000 Ai Ai 1000 Si Di arrivare ai 500 1000 iscritti E anche di arrivare al milione Io spero vivamente Che ce la farai E sono sicuro Sono sicuro Che tu Ce la puoi fare Anzi Si si Già ce l'hai fatta ai 100.000 E secondo me Altri traguardi Riuscirai a Ad arrivarci Io Questo video è stato breve Non mi importa Però sono delle parole Che volevo dirti davvero Grazie Di cuore Per tutto quello che fai Perché C'è Non è mai Successa una roba del genere Su Youtube Che comunque Ormai Vedi Per esempio Questo video Io non Non volevo farlo In questo modo Volevo farlo Chiamando Ciccio Gamer E facendomi passare Una clip Dove ti Ti augurava Ti faceva gli auguri Di A Checo Bomba O ad altri Nick Xuder Tutti questi amici Il problema È che purtroppo Come tu sai Io non sono nessuno E quindi Non mi ascolterebbero Non mi darebbero mai Una piccola clip Sto parlando Di Ciccio Come altri Youtuber grandi Oltre ai nostri amici Che comunque sono Xudere E Nick 5 Stelle Io veramente Ti auguro davvero Tante Tanta felicità E che Continuerai Veramente Alla grande Michi Ti voglio bene L'unica cosa Che posso dirti È questo Sei davvero Un amico eccezionale E lo sarai Per sempre Perché le persone Che hanno fatto Un qualcosa per me Non le dimenticherò mai E non le dimentico Fidati Ti voglio bene Un abbraccione grande Vorrei abbracciarti Come ho fatto tua madre Nella clip Che ho messa all'inizio E Però Purtroppo non si può Perché si allontani Spero un giorno Ci incontreremo E niente Ti voglio bene Michi Sei davvero un ottimo amico Ciao Michi Un bacione Ciao